Ah, strappare il pallone, la palla è ancora nelle mani della Viz con la bomba, la super bomba di Giovanni Calimi, marca ottimo lo scarico e c'è il tiro, Donofrio, arresto il tiro, Timberwolves, ah c'è proprio la bomba da casa sua, la realizza, è un super canestro, Cardone, fa saltare l'avversario, ne salta due, c'è la soppata di De Marca che spinge il contropiede, va fino a dentro, fino in fondo, il sottomano, scarico sull'esterno per la tripla, ah, Luvici, riesce a servire l'avversario, il compagno di squadra, ottimo il lavoro di Cardone con l'assist, realizza Signorino, contro scarico per Kindam, bravissimo, con l'assist, la bomba ancora, realizza, potenza è lì, 7-4, 7-1, finale pazzesco, fa la botteghelle, Signorino, non se la lascia rubare, va fino in fondo, con coraggio, bomba di Cardone dall'angolo, in risposta, super bomba, Mimo Cardone, 7-7, 7-1, più 6 per la Viz, risposta di De Marca, la 3 ancora, una partita pazzesca, ora per De Marca, ottimo, il passaggio, no, Luv, secondo tentativo per Signorino, lo sbaglia questa volta, ma è bravissimo, Cardone, la ruba e segna, un canestro, una pesantezza straordinaria, la ruba per un attimo, non ci riesce al 100%, Kindam, bravissimo, fino in fondo realizza, un gran canestro. Grazie. Grazie.